Oggi iniziamo con un piccolo omaggio al Veneto Go, che ha organizzato benissimo il torneo di Bassano lo scorso fine settimana e ha regalato a tutti i partecipanti questa bellissima borsetta. Con su un problema di Go, che adesso andiamo a vedere. Questo è il problema dello stemma del Veneto Go. Il problema è, se tocca bianco, cattura questo di nero ed è evidente, no? La tarica. Se invece tocca nero, riesce a salvarle. Qual è la mossa? Perdi. Bene. Fantastico. Grazie. 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 Grazie.